Forse è solo una trovata per essere nuovamente al centro dei riflettori e dei gossip, ma Rossano Rubicondi è apparso in pubblico al fianco di Ivana Ciampa. Per la prima volta, dopo le voci di divorzio seguite alla partecipazione del giovane italiano all'Isola dei Famosi e al presunto flirt con Belen Rodriguez, Rossano è stato sorpreso insieme con l'ereditiera a spasso per New York. A documentare l'incontro ci sono le foto che ha scattato il settimanale di Vai Donna. Le immagini ritraggono i due a passeggio per la Grande Mela, anche se negli ambienti vicini a Rubicondi c'è chi afferma che si tratta di una finta e che in realtà la separazione fra i due sarebbe irreparabile.